Dopo che sono stati inseriti tutti i dati relativi al personale impiegato nella ricerca, si possono assegnare ad essi le squadre di appartenenza. Il metodo per creare una nuova squadra è simile al metodo di inserimento di nuovo personale. Dalla funzione formazione squadra, se si clicca sul comando crea nuova squadra, verrà aperta una finestra nella quale inserire il nome che si vuole dare alla squadra e le note se ve ne sono. Ad esempio inseriamo il nome squadra 1, si può rendere attiva o meno la squadra e cliccando il tasto salva, la squadra creata verrà registrata nel database. A questo punto si può decidere quanti e quali operatori assegnare ad ogni squadra. Mediante il comando gestisci i membri Dal menu a tendina persone libere si possono vedere quali e quante sono le persone ancora libere e quindi non assegnate ad una squadra. Cliccando il tasto aggiungi a squadra, la persona selezionata verrà aggiunta alla squadra da noi scelta. Grazie. Grazie. Grazie.